Namaste, ciao, come stai? Ti mostrerò due semplici particolari per correggere errori attraverso un prox, un attrezzo, il mattoncino in questo caso. Molto semplicemente voglio in maniera concisa comunicarti quanto sia importante la perfezione nello studio delle asane, perfezionare l'errore del corpo. Una condizione molto comune in cui si trovi i praticanti quando il bacino non è sufficientemente mobile sono i lomi che protrudono verso l'esterno, e quindi la naturale lordosi lombare è alterata. Vediamo ora come correggere questa situazione grazie all'aiuto di un mattoncino. Lo collochiamo fra le cosce, piano piano cominciamo con gli interduttori muscoli interni delle cosce a stringere il mattoncino e contemporaneamente a premere il collo del piede a terra. Via via che procediamo respirando in questa contrazione sentiremo che si crea una cintura che fascia maggiormente il bacino e piano piano permette al sacro di diventare verticale al suolo. E lentamente quella che era una curva verso il dietro, il dietro del corpo comincia a ritornare una curvatura di lombare fisiologica naturale.